Numeri da capogiro, servizi di eccellenza, centinaia di espositori, convegni, laboratori, dibattiti, approfondimenti e soprattutto loro, le barche, tante bellissime, con il settore della nautica in continua crescita in una cornice straordinaria come il Porto Marina d'Arechi. Sono gli ingredienti principali della terza edizione del Salerno Bull Show, che domani e dopodomani chiude dopo il successo del primo fine settimana. Una chiusura con il botto, così come i numeri della manifestazione, che si candida seriamente ad essere il polo d'attrazione per la nautica da di Porto e non solo del Mezzogiorno d'Italia. Seconda, per il momento, soltanto al Salone Nautico di Genoa. Unica fiera nautica al sud con le imbarcazioni in acqua. Fitta domani l'agenda degli appuntamenti per i tanti appassionati che avranno la possibilità di visitare gratis gli stand ed ammirare barche di piccola, media e grossa stazza, negli oltre mille posti barca del Marina d'Arechi Port Village. Si parte con Storie di vita di bordo, in cui Mario Beaumonte racconta agli studenti delle scuole nautiche di Salerno la sua traversata dell'Atlantico. Nel pomeriggio il Bubble Show di Lula Poppins e a seguire il convegno nazionale Assomarinas, la costa della Campania come nuovo fulcro dello yacht in Mediterraneo. E a partire dalle 18, Drink and Live Music con Dixieco, domenica il gran finale. Ne abbiamo parlato con il presidente del Marina d'Arechi, Agostino Gallozzi, che ha tirato un bilancio partendo proprio dalla chicca del ponte di Calatrava. Molto positivo, il fine settimana scorso quello dell'apertura è stato veramente incredibile, tantissima gente, l'inaugurazione con l'architetto Calatrava che ci ha già delineato la fase 2 del Marina d'Arechi, con la realizzazione della sua opera nella parte retrosante del Marina d'Arechi, è stato veramente, uso un termine esagerato, esaltante. È stato un piacere stare tutti assieme e poi vedere tanta gente che entrando nel Marina d'Arechi rimane sorpresa ancora oggi, a distanza di anni, da che il porto è completato per il livello di qualità che abbiamo raggiunto in questo porto. Quindi sì, grandissima soddisfazione. Nonostante il tempo, peraltro, fosse stato un po' incerto, tant'è che ci aspettiamo adesso questo fine settimana che inizia domani, sempre porti aperti a Marina d'Arechi, è un grandissimo afflusso di persone perché il fine settimana sarà splendido, e quindi sole, mare e Marina d'Arechi, e dico, più di così è impossibile. È l'unico salone nautico nel Mezzogiorno d'Italia in cui le imbarcazioni sono in esposizione in acqua. L'altro salone nazionale dove le imbarcazioni sono in esposizione in acqua è il salone di Genova. Questo fa la differenza perché in realtà un salone nautico che si svolge in capannoni più o meno industriali è una grande tristezza, secondo me si vedono le imbarcazioni per cavità, la gente va, è giusto che sia così, però tutt'altra atmosfera creare una grande vetrina a disposizione della enorme filiera della nautica di Porto che, ricordiamoci, al di là dell'elemento diportistico-turistico rappresenta una filiera del valore, quindi dello sviluppo economico, dell'occupazione molto importante per la nostra economia. Quindi una vetrina così lunga, oggi che stiamo in fase di apertura in funzione di domani, ci sono più di 100 stand che mettono insieme dai produttori di imbarcazioni i grandi cantieri, quindi qui alle mie spalle c'è tapezzieri, meccanici, elettricisti, concessionari, accessori, broker, insomma è una filiera veramente molto lunga e che noi mettiamo insieme per dire a chi va per mare, per chi ha la passione per il mare, a Marina del Regno abbiamo un'ambizione, questa è la nostra vera ambizione, lasciamo a te il piacere, tutta la parte bella dell'andare per mare, tutti i problemi, tutte le questioni, tutte le complicazioni che sono legate all'andare per mare ce le prendiamo noi, ce le facciamo carico noi, in modo che a te rimanga soltanto proprio la gioia per te, per la tua famiglia, per i tuoi amici, di stare nel tuo tempo libero, nel posto più bello e anche nella condizione più intrigante che si possa essere. Il mare rappresenta un elemento di vita importantissimo e io dico che chi non è ancora appassionato del mare è perché non lo sa ancora, quindi se viene a Marina del Regno si accorgerà di essere un grande appassionato del mare, che ha tutte le caratteristiche per essere attrattiva. Se a questo mettiamo un'eccellenza infrastrutturale, allora chiediamo quel connubio tra le nostre bellezze paesaggistiche, naturali, la capacità imprenditoriale di offrire un servizio di altissimo livello, siamo già vincenti. A questo dovremmo aggiungere anche la capacità della componente pubblica di rendere tutto il territorio ricettivo e all'altezza della sfida che abbiamo posto e credo che veramente il successo sia assicurato e questo poi porta dietro di sé sviluppo economico, sviluppo occupazionale in questa filiera che dicevo prima, che sicuramente può dare molta soddisfazione alla nostra città e alla nostra regione. Grazie a tutti.